Emerlab è un nuovo contenitore di proposte finalizzate alla protezione civile, alla formazione per i volontari che operano nella protezione civile, alla divulgazione, alla cittadinanza a partire dai bambini e dai ragazzi di quanto è protezione civile a Monza oggi. Questo evento nasce sull'onda dei 10 anni del gruppo comunale di volontari di protezione civile che a fianco del servizio incardinato in comune svolgono un ruolo prezioso di formazione di supporto e soprattutto sono sempre disponibili in caso di emergenze che possono esserci a Monza. È un tipo nuovo di manifestazione che quest'anno inauguriamo convinti che poi dall'anno prossimo possa assumere anche una rilevanza maggiore. Il laboratorio che coneggerà oltre 300 volontari di protezione civile, decine di operatori tecnici del settore e tutta la popolazione che vorrà partecipare. Noi abbiamo organizzato dei percorsi ludici per i bambini, abbiamo organizzato dei convegni in cui concludiamo che la popolazione comunque partecipi attivamente così com'è il ruolo della popolazione in questione civile. La popolazione potrà partecipare visitando per esempio il campo dei soccorritori, provando anche le attrezzature, le tecniche, sperimentando alcune delle pratiche che il sistema di protezione civile mette in atto. Abbiamo pensato per esempio ad un percorso per i bambini che è libero e disponibile a chiunque voglia accedere in cui i bambini possono provare a partecipare, a spegnere un incendio simulato, a muoversi all'interno di una camera fumo, a muoversi all'interno di un percorso che è stato ideato appositamente per loro.